Sono ore decisive quelle che sta vivendo la città di Mariupol dove ogni 10 minuti cadono le bombe respinta alla richiesta di resa da parte dei russi per un cessate il fuoco e il relativo corridoio umanitario. Non è un'opzione la resa, nella città le autorità locali riferiscono di centinaia di persone deportate, quello compiuto da Putin a Mariupol è un immenso crimine di guerra, detto l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea Borrell. Nella capitale Kiev è bombardato un centro commerciale, almeno 8 le persone morte, fino a mercoledì mattina è stato proclamato il coprifuoco. Altre città sono sotto attacco, a Odessa bombe lanciate dalle navi da guerra russe sono cadute su alcuni edifici residenziali mentre è stata contenuta una fuga di ammoniaca da un impianto chimico a Sumi, città a 500 km da Kiev. Proseguono gli sforzi della diplomazia questa mattina a Bruxelles, riunione del Consiglio degli Affari Esteri. La ministra tedesca fa sapere che l'Unione Europea è pronta ad aumentare a un miliardo di euro il sostegno finanziario militare a Kiev, mentre Zelensky chiede all'Europa di stoppare tutti gli scambi commerciali, energia compresa. Oggi pomeriggio ci sarà il colloquio telefonico tra Biden, Draghi, Macron, Scholz e Johnson. Il presidente americano giovedì sarà a Bruxelles per il vertice Nato e il Consiglio Europeo, mentre venerdì si recherà in Polonia. Nuovo round intanto di colloqui, ma il portavoce del Cremlino chiarisce che non ci sono stati progressi per arrivare ad un incontro tra il presidente ucraino e Putin. Kiev deve rendersi più disponibile. Queste le parole di Peskov. Ed è sempre più drammatica la situazione dei profughi. Un nuovo allarme è stato lanciato dal commissario alle migrazioni dell'Unione Europea. C'è un forte rischio che i bambini vulnerabili siano vittime della tratta di esseri umani. Buongiorno dal telegiornale della Sette. Dunque l'avete sentita quella che è la situazione nel complesso in questo ventiseiesimo giorno di guerra. Dopo un'altra notte, una mattinata di bombardamenti, l'annuncio da parte del sindaco di Kiev di un coprifuoco da stasera fino a mercoledì mattina, dopo che sono stati colpiti edifici residenziali e un centro commerciale con otto vittime. Sicuramente la situazione più disperata è quella che sta vivendo la città di Mariupol, praticamente rasa al suolo, ma che resiste e che rifiuta quella sorta di ultimatum dato dai russi per la consegna della città. Un'opzione che non è sul tavolo. Si sono tornate a sentire le sirene anche a Leopoli. Dove andiamo? Dal nostro Fabio Angelicchio. Buongiorno Fabio per capire complessivamente quella che è la situazione sul campo molto difficile in queste ore. Buongiorno. Sì, buongiorno Luca. Esattamente proprio come dicevi tu. Quella è la situazione. Ci arriverò in un attimo. Allora, tu dicevi sono collegato qui da Leopoli. Leopoli da qualche giorno ormai non è più una città tranquilla, sicura, lontana dalla guerra. Ormai le sirene dell'arma si susseguono periodicamente anche cinque, sei volte al giorno. La gente fugge nei bunker, nei ripari e poi riesce fuori soltanto quando c'è il cessato allarme. Noi stessi ieri rientrando nel nostro hotel abbiamo sentito dei colpi d'arma da fuoco ad un checkpoint non lontano da dove ci troviamo. Probabilmente si è trattato solo di una violazione del cessato del fuoco. C'è stato il fuoco e come dicevi tu, anzi è un coprifuoco in realtà, un coprifuoco che è in vigore fino a mercoledì prossimo, un coprifuoco rafforzato a Kiev. Perché? Perché Kiev è la capitale, è una città simbolo, ha un'importanza molto strategica per l'avanzata dei russi e allora lì è stato colpito un centro commerciale, molte le vittime. Al momento il bilancio parla soltanto di otto, una decina ma potrebbero essercene molte di più. Ed è stato bombardato anche un centro di addestramento, di reclutamento dei cosiddetti combattenti stranieri, una base, anche lì ci sono state numerose vittime. Spostandoci però più a sud c'è Mariupol. Mariupol ormai è stata praticamente rasa alla suola, è stato rifiutato una resa come ricordavi prima da studio e lì la situazione umanitaria è drammatica perché dei corridoi umanitari che sono stati aperti i russi hanno rifiutato quello aperto da aprire appunto a Mariupol. E poi si combatte molto duramente anche a Odessa, ma facciamo il punto sul campo nel servizio che ha preparato per noi Ninfa Colasanto. Nessuna resa a Mariupol resiste pagando un prezzo altissimo. La città simbolo non da oggi della resistenza ucraina dove il 90% delle costruzioni è stato danneggiato se non distrutto dai bombardamenti russi respinge anche l'ultima offerta del ministro della difesa di Putin. Un cessate il fuoco con corridoi umanitari garantiti dai russi in cambio del disarmo dei combattenti ucraini che avrebbero dovuto consegnarsi disarmati ai russi. In pratica una capitolazione che avrebbe permesso all'esercito russo di conquistare velocemente una pedina fondamentale sul mar Dazov e unire così il Donbass alla Crimea, ottenendo in questo modo il controllo dell'intera costa sudorientale del paese. L'offerta è scaduta alle 5 di questa mattina. Nella città dove si combatte da giorni incessantemente nelle strade martoriate dalle bombe che cadono dalla terra e dal mare ad una velocità inaudita, si parla di una ogni 10 minuti, attualmente ci sono ancora 300.000 civili intrappolati senza cibo né acqua, nascosti nei sotterranei, nei rifugi con racconti drammatici di vendette, stupri e torture. Le autorità di Kiev hanno reso noto che è stato trovato un accordo con i russi per evacuare i civili da diverse città con otto corridoi umanitari. Mariupol non rientra però nell'intesa. E si combatte anche per Odessa. Militari ucraini riferiscono di due navi russe che avrebbero tentato un'incursione a distanza, respinte dall'artiglieria delle forze armate di Kiev. Bombe russe sono cadute stamattina su un sobborgo della città. La capitale nella notte ha subito un grave attacco dal cielo. Un attacco missilistico russo ha ridotto in macerie un centro commerciale a Retroville, nella zona nord, colpendo anche alcuni palazzi. Il bilancio parla di almeno otto morti e diversi feriti. Il sindaco Vitali Klitschko ha decretato un nuovo coprifuoco da questa sera alle otto fino a mercoledì mattina. E un altro centro di addestramento è stato colpito con missili cruise ad alta precisione a Rivne nel cuore dell'Ucraina, a circa 300 chilometri ad ovest di Kiev. Mosca parla di un attacco mirato contro mercenari stranieri e unità nazionaliste ucraine. Le vittime sarebbero almeno 80. Questa mattina si era temuto il peggio a Sumi per una importante perdita di ammoniaca dall'impianto chimico di Sumi-Chimpro, colpito dall'artiglieria russa. Il governatore della regione aveva infatti diramato un allarme per la fuoriuscita di gas tossico su un'area di 5 chilometri, invitando la popolazione a stare in casa o nei rifugi. Perdita che più tardi sarebbe stata fermata, la popolazione comunque viene invitata a respirare attraverso garze imbevute di acido citrico. E allora abbiamo sentito anche nel servizio si parlava di foreign fighters, di combattenti stranieri. Noi oggi abbiamo incontrato un combattente straniero, un signore di 70 anni, si chiama David, viene dal Messure e dagli Stati Uniti. Sentiamo insieme che cosa ci ha detto, poi la linea può tornare allo studio di Roma, Luca Speciale, vediamo. Perché è qui a Leopoli? Perché faccio questo? Perché ho visto ragazze di 18 anni con i fucili in mano, non ne con i fucili in mano. Se posso salvare una di loro ne varrà la pena. Se posso aiutarle a sopravvivere, se posso aiutarle a evitare i cecchini, a non farsi ammazzare, allora ne varrà la pena. Dove sta andando adesso? Sto andando a prendere un treno per Kiev. Chi incontrerà a Kiev? Non lo so, non ho potuto stabilire dei contatti con le forze di difesa. Doveva esserci qualcuno qui alla stazione, ma non l'ho trovato. È giusto definirla un foreign fighter? Sì, sono un vecchio foreign fighter, molto vecchio. Lo sa che può morire? Non dovrà succedere in un modo o nell'altro, nessuno se ne va da vivo. Dobbiamo morire tutti, è un rischio. E la sua famiglia che cosa dice? Mia moglie è morta, ho tre figlie, una è d'accordo, a un'altra non interessa. La terza mi dice, quando torni a casa papà? E chi ha ragione delle tre? Quella che mi dice, fai quel che devi fare. Devo farlo, devo proprio. Ho amici qui in Ucraina. Se posso aiutare, devo farlo. Grazie a Fabio Angelicchio per questa testimonianza, anche molto significativa. Grazie Fabio, chiaramente ti ritroveremo nelle prossime edizioni. Ieri l'ottimismo turco circa la possibilità di un accordo di pace aveva fatto pensare a dei passi avanti da parte della diplomazia, la cui strada invece resta in salita. Questa mattina infatti a gelare un po' tutti ci sono state le parole del portavoce del Cremlino Dimitri Peskov che ha parlato di un progresso insufficiente per poter arrivare a quello che dovrebbe essere l'incontro tra i due leader, ovvero tra il Presidente Zelensky e Vladimir Putin, per arrivare ad un accordo di pace definitivo. Zelensky proprio questa mattina ha chiesto nuovamente all'Unione Europea di interrompere ogni rapporto commerciale con la Russia. Trattativa deludente, nessun presupposto per un vertice a livello presidenziale e neppure una possibile tregua e all'ordine del giorno dei negoziati russo-ucraini che riprendono oggi. E la linea di Mosca annunciata dal portavoce del Cremlino Peskov, ogni sospensione dei combattimenti è sempre stata usata dalle forze nazionaliste ucraine per riorganizzare gli attacchi accusati ai russi. In sostanza, per arrivare al faccia a faccia tra Putin e Zelensky, nuovamente proposto ieri dal Presidente ucraino, Mosca continua a chiedere prima un documento scritto concordato preventivamente tra le parti. Alla CNN ieri Zelensky, visibilmente provato, si era detto pronto ad incontrare subito Vladimir Putin. Ogni chance e qualsiasi formato nei negoziati va colto subito in caso di fallimento. Andremo verso una terza guerra mondiale, ha detto, chiarando però anche i limiti di una trattativa a senso unico, ci sono compromessi per i quali non siamo pronti. Come Stato è indipendente, non si può ottenere con la forza il favore dei cittadini di un altro paese, non puoi costringere con la forza il Presidente di un'altra nazione a concedere tutto. Parallelamente al lavoro delle delegazioni negoziali, continua a muoversi dalla diplomazia internazionale. La Turchia, sicura tra Russia e Ucraina, passi avanti ce ne sono stati. Le parti sono vicine ad un accordo, affermato il Ministro degli Esteri, Chavu Soglu, dopo le visite a Mosca e Kiev. Secondo Ancara, i punti centrali del possibile accordo restano sei. Neutralità, disarmo e garanzie di sicurezza dell'Ucraina, la cosiddetta denazificazione, l'uso della lingua russa nel paese, lo status della regione separatista del Donbass e della Crimea, annessa dalla Russia. Questa mattina, intanto, al Consiglio degli Affari Esteri di Bruxelles, la Ministra degli Esteri tedesca, Baerbock, ha annunciato un ulteriore sostegno finanziario a Kiev fino a un miliardo di euro per l'acquisto di armamenti. Ieri, invece, l'intervento e la richiesta di aiuto militare di Zelensky al Parlamento israeliano aveva provocato reazioni contrastanti. Il paragone del Presidente ucraino tra l'invasione russa e l'olocausto ebraico per mano nazista è stato duramente criticato dal mondo politico israeliano. Oggi anche il Premier Bennett è intervenuto. Credo che la Shoah non debba essere comparata a nulla. Il paese e il popolo ucraino sono in mezzo a una grave guerra. Israele lavora da tempo ad una mediazione, ha detto. Domani è previsto l'intervento di Zelensky a Camera e Senato. Oggi, pomeriggio, il Premier Draghi parlerà col Presidente americano Biden, il cancelliere tedesco Scholz, Emmanuel Macron e Boris Johnson. Biden sta preparando il viaggio in Europa per i colloqui con gli alleati Nato e il Consiglio dell'Unione Europea venerdì prossimo incontrerà il Presidente polacco a Varsavia. E allora, come diceva il servizio, giovedì, venerdì prossimo, l'arrivo di Biden è il momento in cui Stati Uniti ed Europa proveranno nuovamente a serrare le fila per capire come continuare a rispondere all'invasione dell'Ucraina da parte di Putin e come rafforzare la risposta dell'Occidente. Verrà sicuramente toccato il tema della dipendenza energetica dalla Russia. L'Unione Europea si è detta più volte disponibile a continuare sulla strada delle sanzioni verso un quinto pacchetto di sanzioni che però toccherebbe inevitabilmente sia il carbone che il petrolio russi. Capitoli sin qui risparmiati proprio per quella che è l'alta dipendenza di molti paesi dell'Unione appunto dall'energia russa. Tra questi c'è l'Italia. Sarà una giornata lunga, ammetteva un po' sconfortato. Questa mattina l'alto rappresentante per la politica estera europea, Joseph Borrell, incontrando i giornalisti. Una giornata lunga è soprattutto faticosa perché all'ordine del giorno della riunione dei ministri degli esteri dell'Unione c'erano altre possibili sanzioni da combinare alla Russia. Sanzioni che questa volta avrebbero interessato anche il settore energetico. E insomma, se fino ad ora il rapporto costi-benefici, tenendo ovviamente conto che in ballo c'è la sopravvivenza dell'Ucraina, non è nemmeno in discussione, da oggi invece si farà sul serio. Del resto, a ricordarlo e a chiedere ancora una volta compattezza ci ha pensato sempre in mattinata il presidente ucraino Zelensky con un appello all'Unione europea diffuso via Telegram. Fermate tutti i commerci con la Russia, ha chiesto, e in particolare rifiutate le sue risorse energetiche. Per favore, ha continuato il presidente, sapendo di toccare corde molto sensibili, per favore non sponsorizzate le armi di questa guerra, costringete la Russia a lasciare l'Ucraina. Per poi concludere con un appello mirato, in particolare alla Germania, facendo leva sul suo senso di colpa. Voi avete la forza, senza scambi con voi, senza le vostre aziende, le vostre banche, la Russia non avrà più soldi per questa guerra. Vero, in parte perché sono tanti gli stati extra Unione europea che non aderiscono alle sanzioni. È vero anche se la Germania e l'Italia, ad esempio, dovessero veramente interrompere tutte le forniture energetiche, perché sarebbero loro, a quel punto, a fermarsi. E dunque, ecco, spiegate, le parole della ministra degli esteri tedesca, Anna Lena Baerbock. Usciremo gradualmente da questa dipendenza a velocità accelerata. Forte anche del fatto che al momento Berlino ha rimandato lo spegnimento delle centrali nucleari ancora in funzione e siglato, proprio nei giorni scorsi, un importante accordo di partnership energetica con il Qatar. A favore di un pieno divieto dell'export si sono dette anche la Repubblica cieca, Irlanda, Lituania, ma è presto per dire quali decisioni verranno assunte. Per l'Unione europea è impossibile fare a meno del gas russo ora, dice intanto al vicepremier russo Novac. Gazprom, nel frattempo, fa sapere che al momento le forniture verso l'Europa sono regolari. 104 milioni di metri cubi al giorno, difficile rinunciarvi. In Italia, sicuramente, dove mentre si discute di un nuovo possibile pacchetto di aiuti, sembra che gli sconti sulle accise dei carburanti non vedranno la luce fino a mercoledì. E allora alcuni aggiornamenti. Uno riguarda la durata di colloqui che si sono tenuti, si sono conclusi da poco, durati un'ora e mezza, ancora non si conosce niente circa il loro andamento. L'altro riguarda invece l'allarme dato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sulla durata di una guerra che sta già approvando fortemente un sistema sanitario, quello ucraino che bene non stava dopo due anni di pandemia con le persone che hanno dovuto rinunciare alle cure per malattie che avevano. Un paese è quello ucraino con un alto tasso di HIV e anche di tubercolosi. Questo ci porta ancora di più a parlare di quello che è l'immenso dramma dei profughi. Sono già più di 3 milioni le persone che hanno lasciato il paese, 60 mila quelle che sono sin qui, dall'inizio della guerra, arrivate e che sono state accolte in Italia. Sono rimasti intrappolati per giorni sotto le bombe nel loro villaggio che si chiama Bobrik. Oggi con un convoglio di 20 autobus e 250 auto sono arrivati ad est di Kiev dopo un viaggio lungo e pericoloso. Secondo l'ONU i profughi ucraini in fuga sono già 10 milioni, circa 3 milioni e 300 mila sono già all'estero ma gli altri sono ancora nel loro paese, senza una casa. Per una settimana ho vissuto in un rifugio improvvisato, dice quest'uomo. Non potevamo cucinare, non avevamo acqua e neppure la luce. Molti di loro sono feriti, in tutto sono 1600 persone, più di 800 i bambini. Secondo l'UNICEF sono circa un milione e mezzo i piccoli profughi. Oggi il commissario alle migrazioni dell'Unione Europea ha lanciato ancora una volta l'allarme. C'è un forte rischio che i bambini vulnerabili siano vittime della tratta di esseri umani, ha detto dall'Estonia la Johansson. Un pericolo di cui da giorni parlano anche le organizzazioni non governative impegnate in Ucraina. Uno sforzo comune che vede impegnati tutti i paesi europei, soprattutto quelli confinanti, Polonia in testa, dove ne sono arrivati oltre un milione, con le autorità locali che chiedono aiuti alla comunità europea. Qui invece siamo all'aeroporto dismesso di Berlino, trasformato in un centro di accoglienza dove ci si prepara a riceverne fino a 10.000 persone al giorno per registrarle e poi trasferirle in tutta la Germania, dove fino ad oggi sono arrivati oltre 220.000 rifugiati, ma se ne aspettano almeno un milione. In Italia ormai sono stati accolti circa 60.000 profughi, più di 3.000 al giorno. Il piano che il governo sta mettendo a punto prevede oltre 90.000 posti pubblici o nelle famiglie, 16.000 nelle strutture per i migranti. Un piano che però deve ancora scattare, visto che in questi giorni gli ucraini giunti in Italia hanno trovato accoglienza soprattutto da parenti o amici. Oggi il presidente del Consiglio, Mario Draghi, farà visita al lab di Palma Nova, Udine, dove sono stati stoccati mezzi e aiuti in partenza per l'Ucraina. Ci sarà anche il capo della protezione civile che coordina l'accoglienza. Con il presidente della regione, Federiga, faranno il punto per vedere se sarà necessario fare delle correzioni per migliorare le procedure. Questa dunque è la situazione. Chi vuole, chi può aiutare, ricordiamo quella che è la nostra sottoscrizione. Un aiuto subito della Tgla 7 con il Corriere della Sera per l'Ucraina. Sullo schermo vedete anche il codice beneficiario. Oltre all'Iban sono dati che potete trovare sui nostri siti ufficiali. Vi ricordo anche dalle 17, come accade da 26 giorni a questa parte, lo speciale di Enrico Mentana. Una sorta di linea diretta con la situazione appunto del conflitto in evoluzione. Parliamo dei rapporti tra Roma e Mosca che sono al centro del dibattito politico in queste ore. Dopo le minacce nel fine settimana da parte russa all'Italia, nel caso continuasse a perseguire con l'Unione Europea la strada della guerra commerciale a Mosca, si potrebbe arrivare a una situazione irreversibile. Così ha detto il Ministero degli Esteri russo. Ma anche le parole, l'attesa per quelle che saranno le parole pronunciate domani dal Premier Ucraino Zelensky in videocollegamento con i nostri parlamentari. La no-fly zone non è perseguibile. Ciò che più di tutto dobbiamo fare è evitare un conflitto mondiale. Era fondamentale non spaccarsi sull'invio delle armi. Alla vigilia del collegamento previsto per domattina alle 11 del Presidente ucraino Zelensky con i parlamentari italiani, il Presidente della Camera FICO batte sempre forte sulla linea dell'Unità Europea concordata con gli alleati Nato e ribadisce la vicinanza dell'Italia e l'Ucraina contro l'invasione russa secondo la linea approvata a larghissima maggioranza in aula con l'invio degli aiuti militari e umanitari. Senza prendere tuttavia le distanze da quanti nel Movimento 5 Stelle a cominciare da Giuseppe Conte continuano ad avere difficoltà sulla scelta di alzare dall'1,5% al 2% la spesa militare fortemente sostenuta dal Ministro Guerini. La mia visione è che la soluzione non sia aumentare gli armamenti ma puntare sulla politica estera ed energetica dell'Unione Europea dice anche infatti FICO che vede sì è un'Europa forte che insieme all'Italia ha preso decisioni unitari e veloci ma aggiungendo allo stesso tempo che alla fine della guerra l'Unione Europea dovrà capire come diventare più forte. Dice queste cose il Presidente della Camera nella fase di sicuro più delicata per quel che riguarda i rapporti tra Mosca e Roma specie dopo l'avvertimento del governo russo che per bocca del direttore del Dipartimento Europeo del Ministro degli Esteri, Alexei Parmanov aveva ricordato le conseguenze irreversibili per l'Italia qualora il governo insistesse sulla strada delle sanzioni ricordando la dipendenza italiana dal gas russo e i rapporti particolari tra i due paesi e indirizzando parole pesanti al Ministro Guerini trasformatosi a suo dire in falco dopo aver chiesto aiuto alla Russia per fronteggiare la pandemia ai tempi del governo Conte il quale Conte respinge ora con forza ogni voce sorta intorno agli aiuti arrivati dalla Russia durante la pandemia tutte le insinuazioni, le allusioni, le preoccupazioni che oggi sorgono non hanno alcun fondamento le perplessità nella maggioranza sull'invio delle armi agli ucraini ad ogni modo restano, soprattutto tra 5 Stelle e Lega così come sia pure sotto traccia i dubbi sulle ripercussioni delle sanzioni sull'economia italiana che pure tanto allarme continuano a gettare tra le forze politiche mai così unite, sia pure con toni e accenti diversi nel giudicare inefficaci le misure decise dal governo per fronteggiare il cosiddetto caro bollette Ecco, a proposito della pandemia Italia tutta in zona bianca tranne la Sardegna ma i dati ci dicono che continua la crescita dei contagi soprattutto in alcune aree del paese il tasso di incidenza è maggiore si tratta di 8 regioni del centro-sud È presto per parlare di una nuova ondata come quella di inizio anno nonostante un aumento dei casi e di nuove reinfezioni i contagi al momento sono concentrati soprattutto in alcune zone del paese e l'incidenza per 100.000 abitanti è più alta al centro e al sud in particolare in 8 regioni Umbria, Puglia, Calabria, Marche, Basilicata, Lazio, Abruzzo e Toscana va meglio nelle grandi regioni del nord dove è concentrato il più alto numero di abitanti nonostante la presenza di Omicron 2 sia più elevata in questa situazione è inutile pensare a nuove misure restrittive non servono assolutamente a nulla spiega al quotidiano alla stampa il microbiologo Andrea Crisanti la verità è che prima o poi ci contagieremo quasi tutti come del tutto inutile sempre secondo Crisanti la quarta dose di vaccino se non per i fragili e gli anziani di parere opposto Nino Cartabellotta presidente della fondazione Gimbe che evidenzia come la campagna vaccinale sia ormai ferma nell'ultima settimana dal 14 al 20 marzo abbiamo fatto, dice, poco più di 20.000 nuovi vaccinati in un momento in cui la circolazione virale è aumentata in maniera consistente ritengo una follia abolire l'obbligo della mascherina al chiuso dal primo maggio, conclude Cartabellotta di pari passo si assiste anche ad un incremento delle reinfezioni passate in tre mesi dall'1 al 3% lo evidenziano i dati dell'Istituto Superiore di Sanità in particolare con l'arrivo di Omicron altamente contagiosa sono più esposti coloro che sono risultati positivi oltre sette mesi fa secondo diversi esperti dopo sei mesi infatti la risposta immunitaria innescata dal contagio si abbassa notevolmente la probabilità di rinfettarsi però varia da persona a persona e influiscono anche le caratteristiche genetiche in una Italia ormai tutta bianca tranne la Sardegna che resta gialla l'aumento dei casi non si ripercuote in modo preoccupante sui ricoveri in base al bollettino di ieri del Ministero della Salute che certifica gli ingressi nei reparti ordinari e di terapia intensiva sale il tasso di positività al 16,3% con 370.466 tamponi i nuovi contagi sono stati 60.415 mentre le vittime sono state 93 più di 1.170.000 le persone attualmente positive con un aumento di oltre 25.000 nelle ultime 24 ore sconfiggere la mafia è possibile ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella 27esima giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie lo dimostrano ha detto i risultati delle forze dell'ordine della loro azione senza sosta da parte anche di magistratura e società civile la memoria è impegno ha sottolineato Mattarella onorare chi ha pagato con la vita il diritto alla dignità di essere uomini opponendosi alla disumanità delle mafie da Napoli a Brescia oggi 100.000 tra giovani e studenti li vedete sono scesi in piazza la manifestazione più grossa a Napoli organizzata da Libera la nuova mafia in mezzo a noi ha affermato Don Luigi Ciotti sono presenti tanti ragazzi e tante ragazze ha detto il Presidente della Camera FICO il problema della mafia della criminalità organizzata e delle camorre dobbiamo metterlo al centro dell'agenda politica e di investire soprattutto sui giovani sabato scorso è morta Samantha Dinka ragazza di 30 anni del bellunese da 14 mesi in stato vegetativo irreversibile per lei il padre aveva chiesto ottenuto il trattamento di fine vita sono stati accanto a lei fino alla fine Genzianella e Giorgio Dinka i genitori di Samantha che dopo 14 mesi in stato vegetativo irreversibile è morta al termine di un percorso medico assistito di accompagnamento al decesso autorizzato dalla magistratura come riferisce oggi il Gazzettino un percorso che ha posto fine a una sofferenza lunghissima come hanno sempre evidenziato i genitori che hanno richiesto il trattamento di fine vita e portato avanti una lunga battaglia legale per far eseguire quelle che hanno sempre detto essere le volontà della loro figlia trentenne la più piccola porre fine a una vita di sofferenza in totale stato di incoscienza la vicenda di Samantha inizia a novembre nel 2020 dopo una caduta banale all'ingresso di casa a Feltre che causa la frattura del femore viene portata all'ospedale di Belluno dopo pochi giorni le sue condizioni peggiorano probabilmente per un'infezione contratta in sala operatoria fino al tracollo i polmoni collassano viene trasferita in elicottero a Treviso ma il suo cervello è rimasto troppi minuti senza ossigeno il danno è reversibile entra in coma presto si capisce che da questa condizione Samantha non uscirà mai il suo corpo è attraversato da spasmi muscolari i genitori vedono la figlia soffrire inerme in un letto d'ospedale papà Giorgio inizia una battaglia giuridica per terminare questa sofferenza una perizia medica allunga il percorso un medico scrive che la donna ha la facoltà di un bimbo di un mese con una riabilitazione avrebbe potuto arrivare alle facoltà di uno di due il tribunale vuole che si segua questa via tentata nella clinica ad illuminare ma non porta nulla non esisteva un testamento biologico che potesse permettere di attuare le volontà della ragazza ma lo scorso 10 novembre dopo che viene accertato che anche la strada della riabilitazione era un fallimento e che Samantha continuava a soffrire il papà Giorgio viene nominato amministratore di sostegno può decidere per lei dall'estate Samantha viene trasferita in una RSA privata da marzo le sue condizioni sono ulteriormente peggiorate inizia un percorso di sedazione pagliativa con cui si è spenta prima dell'incidente seguendo la vicenda di DJ Fabo in televisione Samantha commentava che era giusto porre fine a una vita di sole sofferenze e senza alcuna speranza di miglioramento con un lungo percorso legale suo papà è riuscito a far rispettare le sue volontà sono stati entrambi ritenuti colpevoli e condannati i due cittadini tedeschi che il 19 giugno del 2021 sul lago di Garda a bordo di un motoscafo travolsero uccidendoli Umberto Garzarella di 37 anni e Greta Nedrotti di 24 li vedete nella foto dopo 5 mesi di processo il Tribunale di Brescia ha infatti ritenuto responsabili Patrick Kassen e Christian Tesman la loro barca viaggiava 4 volte oltre i limiti consentiti i due non prestarono soccorso sono stati disposti per loro rispettivamente 4 anni e 6 mesi e 2 anni e 6 mesi di carcere ci fermiamo per qualche istante come sempre e poi torniamo con la pagina sportiva e con eventuali aggiornamenti tra poco torniamo in studio apriamo la pagina sportiva parlando del campionato che si appresta ad affrontare il rettilineo finale nella corsa per i piazzamenti europei ieri oltre alla vittoria della Roma che ha dominato il derby si sono registrate le affermazioni di Atalanta e Juventus doveva reagire all'eliminazione dalla Champions League e lo ha fatto la Juventus ritrova il gol di Dybala Stenglino Eschone a braccio con Allegri e anche Di Vlaovic con un 2-0 che sgretola le speranze di salvezza della Salernitana e che avvicina i bianconeri al terzo posto così Allegri potrà giocare il derby d'Italia alla ripresa dopo la sosta per la nazionale con un solo punto di distanza dai nerazzurri che devono però ancora recuperare la partita di Bologna la Roma di Murigno si prende il derby della capitale con un 3-0 meritato e il tecnico portoghese vince il duello del gioco contro Sarri una partita di fatto dominata per 90 minuti decisa dalla doppietta di Ebram e dalla splendida punizione del capitano Pellegrini per la Roma un derby entusiasmante che vale il sorpasso il quinto posto in classifica insieme all'Atalanta approccio propositivo e tanta corsa alle armi giallorosse contro una Lazio molle distratta imprecisa e senza acuti del suo bomber ciro immobile serata speciale vittoria meritata il commento di Murigno che grazie a questa iniezione di entusiasmo potrà trovare più continuità e risultati a contendere l'Europa alla Roma e con una partita da recuperare c'è sempre l'Atalanta che si rimette a correre al Dallara contro il Bologna il successo è merito del lampo di Sisse attaccante classe 2003 della primavera un ragazzo fuggito dalla Guinea e che fino a pochi mesi fa giocava in seconda categoria nelle altre sfide della giornata la doppietta di Ciccio Caputo regala alla Sampdoria il prezioso successo sul Venezia in chiave salvezza 1-1 invece tra Empoli e Verona al vantaggio dei Toscani con Di Francesco risponde nella ripresa il giovane cancellieri dopo che Simeone aveva sbagliato per ben due volte un calcio di rigore fatto ripetere dall'arbitro da oggi il calcio italiano altro a cui pensare con la nazionale del Cittimancini a caccia di un posto al prossimo mondiale giovedì a Palermo lo spareggio con la Macedonia del Nord poi si spera di andarsela a giocare con Portogallo Turchia ma non possiamo non tornare sull'avvenimento che più di tutto ha illuminato questa domenica sportiva ovvero il debutto del mondiale di Formula 1 con la vittoria in Bahrain delle due Ferrari il 20 marzo il 20 marzo 2022 sarà per sempre un giorno speciale nel calendario privato della Ferrari perché è un ponte simbolico tra un passato nerissimo e un futuro che è tornato a essere una finestra spalancata sui sogni perché ha chiuso due anni di ferite profonde rispondendo anche alla domanda inevitabile dopo le tante delusioni davvero Charles Leclerc è l'uomo su cui puntare per riportare in alto la Ferrari al pilota Monegasco sono bastati due giorni per cancellare i dubbi gli è bastato avere tra le mani una macchina affidabile e potente sulla pista del Bahrain non ha sbagliato nulla si è preso tutto Paul vittoria il giro veloce ma è una disattenzione grinta feroce grande tenuta psicologica ha risposto per tre volte agli attacchi del campione del mondo Verstappen dal sedicesimo al diciannovesimo giro il sorpasso dell'olandese il controsorpasso di Leclerc lotta estrema fianco a fianco i due lo hanno sempre fatto da quando da ragazzini si prende una sportellata sui kart tre giri che sono anche uno spot della nuova formula definita effetto suolo che in pratica significa macchine che pesano di più non più jet pronti a decollare ma avere propri bestioni da modellare è presto per dire come andrà il mondiale ma intanto la prima istantanea ha raccontato una storia nuova primo Leclerc secondo Sainz doppietta rossa due anni e mezzo dall'ultima volta il campionato è lungo le novità tecniche sono tante gli sviluppi saranno massicci e impreveribili ma il primo risponso è ineccepibile la Ferrari è ora una macchina affidabile costante e soprattutto veloce partorita bene dopo due anni difficilissimi con tanto lavoro pazienza sperimentazione la grande sconfitta del primo round è la Red Bull che ha chiuso con zero punti Verstappen è stato fermato da un problema tecnico Perez è finito in testa con la Mercedes ha limitato i danni la macchina non è più quella degli anni gloriosi ma Hamilton sì la conquista del polio è un suo piccolo capolavoro piccolo passo indietro per un'ultima ora che riguarda Di Bala numero 10 della Juventus che non rinnoverà il suo contratto a fine stagione pertanto l'addio dalla società bianconera sancito da un incontro tra la società stessa e il procuratore che si è da poco concluso prima sconfitta dell'anno siamo al tennis per Rafa Nadal nella finale del torneo Master 1000 di Indian Wells grande favorito Nadal è stato battuto dall'americano Taylor Fritz numero 20 al mondo tenista di San Diego che nel deserto californiano ha interrotto la striscia di 20 vittorie consecutive di Nadal che puntava a eguagliare il record di Djokovic dei 37 titoli Master 1000 da oggi però Nadal sale al terzo posto della classifica ATP che al momento vede in testa proprio Novak Djokovic e il russo Medvedev queste le immagini allora è tutto per questa edizione della telegiornale vi lascio adesso a Tiziana Panella al suo Tagadà vi ricordo dalle G17 anche oggi lo speciale condotto da Eriko Mentana per raccontare del conflitto in Ucraina grazie a tutti e a domani buon pomeriggio grazie a tutti